Bella a tutti ragazzi, qui è Marco Gamberoni in compagnia dei Chief per un altro video alquanto pieno di bestemmie e frasi dette a cacchio. A Marco, Marco però, scusatemi, per l'interruzione Marco è una merda perché gioca con gli altri. Eh, lo so, ma hanno capito la vostra troppa deboli che hanno dovuto equilibrare le squadre, Jack. I miei pretendi sono Gamma Squad. Buon tonno, Simo Luca, buongiorno. Eh, affanculo. Ma c'è anche una giovane donzella. Marco hai rotto le palle, mi hai fatto tricci in tutte con la colpina. Mamma mia, come... FIERA! Questa cos'è? MARI! NOOOOO! Questa è la sacra della bestemmia, episodio 3. Ciao, ma perché non si presenta? Marco, giuro che ti spacco il culo. Non fermate. Ecco. Però non muore, il re Samuele non muore. Vole c'è la mamma proprio. Sai perché? Perché si chiama figlio di puttana. Ah no. Ti interessai, tu? Interessai, tu? L'eromanu? Buonasera. Buonasera. Mi mancava la sua... Oddio il cane! Sensuale, la sua dente. Un hunger! Sono una puttana Marco. Marco! Ti ho vendicato, ti ho vendicato. Marco! Oddio bono! L'IMS! Perché mandarsi a puttana nel proprio radio è bello. Perché ti venga un cancro all'IMS. Finalmente hanno il... Guarda, c'è Marco, figlio. Esatto. Come godo. Ma hai connessionato Marco. Guardalo! Ma sei un connessionato di merda. Ma... Ma è l'hosto? Avrovvigionamenti in attesa. Ma sa... Ma che camper di merda sei? Come? Ma che camper di merda sei? Ma... Suo porco Dio di st***a! Aiuto, mi sparano! Sì, mi ha ucciso l'IMS ma sei morto, troia. Ho chiamato tanto cazzo in voi. Ma ho la ragazza! È anche nel video! Eh già. Nel video dei Baxter Boys. Ma io accoggio lui. I Bad Boys si potrebbe chiamare in sto video. Ma posso trovare un sacco per gli approvvigionamenti? Di... Madonna de Dio! I mosconi del Dio! Dio, Madonna de Dio! Ciao, Manu! Porco Dio! Ammazzia! Ma come cazzo fa? Vabbè, ma c***o! Vabbè, veramente un po' di stupro. Croia! Madonna, questo è uno schiavo! È giù! No! Croia! Zoccola di merda! E' che non mi fa passare Luca, po' di c***o! Guardalo lì! È giù! Salutalo! Guarda, quello che camperà col cane! Porco cane! È giù! Raga, sto facendo 311! Mamma mia che pro! Ciao! Marco, ma la tors! Maiale! Marco, hai rotto il c***o! Marco, hai rotto il c***o! Mottana, è va! Sto riempendo tutti gli esplosivi! Maia! Non ve lo so, piecari! Ci rega, sto per diventare un maniocosessuale! Marco! Preso! Paraparam! Pam! Chi è che uccide i miei amiglietti? Basta uccidermi! Ragazzi, adesso piazziamo la torretta a Bologna! Mi ha rotto il c***o! Maia! Por c***o! Gatto, DJ, Volpe! Mi ha rotto i miei amigliotti! Mi ha rotto i miei amigliotti! Mi ha rotto i miei amigliotti! Dai, ma non si può fare una cosa del genere! Perché? Poi dopo uno non deve bestemmiare! Ma era mio! Bestemmiare? Cioè, non c'è... Non c'è censura? Non c'è niente? No, non è che... È la m***a! Non c'è censura! ma noi abbiamo un canale così senza le web erotiche ma non è morto con colpo di tomahawk ma chi sei gesù i am jesus è la stessa cosa mi bersagliano io sono fucsia e muori troia fucsia e fucsia leso distrotto dov'è cos'è il volpino ha vissuto una tomahawkata nel culo vabbè che si è bituato coi cazzi però è la mia a me fuffi vuoi croccantini basta tu mi spawni sempre dietro madonna sto terremoto puttana eva non si capisce una minchia è in tremor c'è motivo eh lo so però non si capisce nulla chiamami camper marco chiamami camper prego prego impossibile 50 50 c'è la mamma zoccola uccisione negata ma che cazzo è ingoia 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 uomo di merda puttana troia re samuele no no re samuele con tutto il rispetto e il rispetto non me lo devi toccare arianna perchè è un mito re samuele no ogni tanto faccio così perchè ha un triniti sono morto prima di qualcosa di di sexy di sexy così la dirigente dici 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 tipo manu canto no tipo marco dietro attento dietro te l'ho detto ha detto qualcosa di sexy eh giusto giusto ho detto qualcosa di sexy se e mica vedi un giro chi è che ha preso l'ind? chi è che ha lind? chi è che ha lind? chi è che ha lind? scusa dai marco 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 elicotterista ma chi è che lo sta a chiamare? re samue re samue i trucchi avete i trucchi? i toni ma io sto con loro bravi guarda che figli di marco cosa vuoi? mi stai bruttendo? guarda sto coso va no ma non è possibile 8 8 9 9 scusi non riesco a giocare in sta mappa di me guarda che non muore mamma mia un peggiorno del gamberone guardate anche il game oh gatta hai visto? era immortale quello di la rabbia la frustazione la frustazione mi piace quando mi frusti con te wow ma si ripunto non lo so un po' porno un po' senza censure un po' come come gli altri canali come 3d pre come 3d pre affresciato è che c'è l'audipilata marco mi fa piacere ragazzi che facciamo su e invece no ce l'ho pelosa come ti amo del bufalo mi fa piacere d'averlo ma struppa le chiudi un po' sto video su va bene allora prossimo video molto presto ci salutiamo con arianna che fa uno spogliarello ma eh tu sorella ok ciao ok ciao a tutti ciao 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 ciao